Ci troviamo a Campobasso, nei pressi della zona industriale. Da questa mattina ha ricominciato a nevicare dopo una breve pausa di ieri. Le strade tuttavia non sono pienamente libere, ma la circolazione è possibile. Si teme per questa notte, si teme anche per la giornata di domani. I mezzi antineve sono in azione ormai da giorni. Il carburante è quasi terminato e si spera in un miglioramento delle temperature. Ormai siamo anche a meno 7 ed è diventato veramente difficile anche qui in città. Ci troviamo presso la stazione dei Vigili del Fuoco. La situazione non accenna a migliorare. Da quello che sono i dati in nostro possesso, stiamo lavorando da due giorni e quindi il ritmo, come vedete, è sempre lo stesso. Perché noi in effetti mettiamo anche degli interventi in coda. Purtroppo diamo una priorità in base alla gravità, alla richiesta e all'esigenza. Quindi per noi è un tour de force che sta continuando, ripeto, da due giorni. Dove si sono riscontrate i maggiori interventi? Ma guardi, se lei gira un po' per Campobasso, ci si rende conto subito che i Vigili del Fuoco sono presenti in tutta la zona per quanto riguarda gli interventi che si possono fare con l'autoscala. Poi, quelli che non vediamo, possiamo dire questi, che siamo intervenuti a Limosano, a Lucito, con il Gatto delle Nevi, per soccorso a persone che non si sa cosa è successo loro. Perché persone familiari che ci hanno allertate, che da alcuni giorni non rispondono, altri hanno bisogno di medicinale, di cibo, altri ancora hanno bisogno di beni essenziali. Quindi poi c'è un coordinamento presso la prefettura, che ci sono i nostri dirigenti che stanno valutando il da farsi. Qui diciamo che andiamo avanti in base alle richieste che ci arrivano e poi ulteriore disposizione vedremo più avanti. La situazione è grave? La situazione, diciamo, è importante. È una situazione da noi attenzionata da due giorni a questa parte. Grave non direi, perché al momento stiamo soddisfacendo tutte le richieste con qualche ora di attesa.